Ah ma come sto? Molto bene, ti stanno benissimo Ma potete capire che cosa succede? Questa lol Femmina E' uscita sbagliata E non immaginereste mai Dove? Ma ragazzi è successa Allora Una è sbagliata Ma non potete capire E' uscita sbagliata Non so come dirvelo ragazzi Ma E ciao Ragazzi è arrivata pure da noi L'Amazing Surprise Oggi l'apriamo insieme a voi Sono felicissima E' uno scatolone immenso Contiene 70 sorprese E dentro ci sono 14 bamboline Non vedo l'ora di aprirla Ci sono due omg Oh my gosh Chiamatele come vi pare E invece proprio delle famiglie di lol Lil, pet e compagnia Cantante Più un sacco di accessori Tutti in scatoline troppo carine Allora Adesso facciamo una missione Cerchiamo di aprire tutto In un video solo Ok Ce la possiamo fare? Ci stiamo Partiamo con questo speed unboxing In modo da farvi vedere tutto In poco tempo Credo che sarà un'impresa terribile Però la sfida Sì Ce la possiamo fare? Pronti? Lollina E dimmi Barbara Eeeh Sei pronta ad unboxare tutta sta roba? Ma il ben di dio Non vedo l'ora Ok ragazzi Parte una sfida super difficile Ma ce la possiamo fare Allora Scatola Guardiamola da davanti Eccola qui C'è una strada Ma c'è anche una città Perché questa è una città vera E propria delle lol Infatti da quest'altra parte C'è scritto downtown E up town Da quest'altra parte Città solo È uguale E dice Ultimate unboxing experience C'è proprio La Basta L'unboxing più figo del mondo Due play set Di bamboline Apriamo La scatola Et voilà Foglietti delle bambole E poi grand opening E la mappa Di come vanno aperti E come sono posizionati Nella scatola Cominciamo dalla scatolina Numero uno Che è Qua Ferma Adesso l'apriamo Uno Due Tre Ma poi c'è anche un'altra cosa Lei è Lil Prime Non so come si possa dire Lil Che carina Bellissima È tutta piena di lentigginine Andiamo con la due Ok Mentre Lara tira fuori la due Io vi faccio vedere che Tutti gli adesivi Vanno attaccati su questo foglio Quindi Dovremmo attaccare poi lei Che è A Zero Zero Nove La dovremmo mettere Qui Ok Da bustina C'è un adesivo? No Forse ci sarà qualche accessorio Infatti Scarpe Per la OMG Numero tre Dove si apre? Non lo so Ho trovato in modo Due scatoline Ah Mi aspettavo per lui Però sotto ce ne sono altre Adesivi Non ce ne sono Un Ah forse ho capito E ora Numero quattro Eccolo Qua E l'adesivo non c'è Quindi sicuramente Sarà un accessorio Oh 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 Lanciate una scarpa E l'altra Due scarpine con la pallina Sembrano sempre da voi Numero? Cinque Vai Questa si apre da qua Aiuto Poi una mano Secondo te Ok vai fallo te Ce la fai in dieci minuti Questa secondo me no Ecco Eh brava Qua c'è un sacco di roba Qua c'è il laddino Apri Stai tirando Esatto Tirando questa mega cernierina Riesci Chica Ok Ok Vai 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 Brava No Come sempre Ok Tira su le nuvole E scopriamo Mamma mia Sembra un mosaico Dobbiamo trovare la numero 7 Dov'è? Eccola Eccola qui Vai Sicuramente ci sarà un accessorio Ecco La magliettina della LOL Per aprire la numero 8 Dobbiamo Sfilare Non levare E dentro c'è Gli occhiali Mamma come sto? Molto bene Ti stanno benissimo Numero 9 9 Scarpine Eccola qui E la rala 10 Ok E qua dentro Il tono via Anche ecco Non si vedeva perché è trasparente Cos'è? Yes Yes C'è scritto Ma sotto la 10 Troviamo la 11 E dentro ci troviamo degli occhiali Così La 12 È solo da tirare su Ho detto sicuramente c'è una LOL È grosso No Non c'è una LOL C'è una spazzolina OMG La 13 è qui Ed è un cassetto Guardate Dovrebbe esserci una LOL Perché c'è scritto Proper E ha ragione Sì c'è Che buffa Lentigginine Ma che capigliatura ha? Sembra che abbia un gelato Vero Un gelato sulla testa E nella 14 troviamo il biberon Numero 15 Vestito Il sopra di quello di prima Vero Maschile Giusto E quindi la 16 è? Qua sotto Vai Ed è un polzino Sembra un vaso Adesso facciamo scorrere la 17 Pet Ma che carino Non ho trovato l'adesivo di questa pet Ma andiamo alla 18 Bisogna aprire un altro cassettino Ci riesci? Sì Sì E qua dentro troviamo una bischetta Dentro troviamo delle chiavi Ma una chiave? È la prima volta che vedo questo tipo di accessorio Vero Ma qua sotto c'è il bigliettino del pet Oh allora c'era il bigliettino del pet Meno male perché Ehm Iu Iappi Pappi 19 Ma che cosa è una gonnellina? Molto militare Numero 20 Scarpine bianche La 21 è un altro cassettino Donna Lara sta sbirciando la 22 E dovrebbe esserci un lollo C'è scritto Sinti Ho già capito Slyker Lara ha già capito Indovinate da cosa Com'è? È lui? Questo con le treccine Sì guarda pure i tatuaggi in faccia Ma che bellino C'ha l'ol di qua E il flescino di là Sei un trapper? Sì E sei anatomicamente corretto? Sì 23 Occhiali La 24 è là sotto e contiene questo giubbetto E la 25 sta? Qua Ginsetti Verso la 26 Questa è grande sembra una lol Secondo me sì C'è il bigliettino? Sì Ah è un maschietto? Sì è un maschietto Vediamo un po' chi è Come si chiama? Questo è carino Sembra lolino ma rosa Si chiama Preppy Ben arrivato Copritemi Ti copro col bollino Grazie Il 27 è là sotto E sono scarpine rosse La 28 è una ribaltina E un cassetto la 29 Wow Una casacchina e un accessorio Sembra una borsetta di Gucci Ma che numero siamo? Alla 30 Eccola L'ha trovato un bigliettino Quindi c'è una lol Che bella Con rossetto bicolore alternato Wow Come ti chiami tesoro? Lei è Downtown Doll E c'è qualcuno anche al 31 È una lil Sarà la lil di quella di prima Esatto È lil Downtown Doll Guardate che carina È dolcissima Non ti vergognare Vieni fuori Tipiti Ho trovato la 32 Stivali Ma che belli Anche bicolori Asimmetrici Stupendi 33 Ma è un cassetto la Lina? Sì Ok Sarà un'altra lol Lì è grande Dopo la lol Col gelato in testa Eccolo Il pet Col gelato in testa Ok Mi serve l'adesivo Per il puzzle Ok Mia mia A che numero siamo? 34 È volata Ma questa è una È una bustina fuffa C'è solo l'adesivo No Eh si sono sprecati Che hanno fatto Una bustina adesivo Vabbè Vai avanti E qui abbiamo 35 No 36 No 35 No 35 36 Praticamente Iniziamo a pasticciare Con i numeri Perché sono troppe E c'è un biberon E una casacchina Io ho la 37 Che contiene? Due scarpine Qui c'è la 38 E la 39 E dentro c'erano Occhiali Per una OMG E Delle scarpine Il numero 40 È un cassettino Oh grande È un petto Guarda Vediamo un po' Tiralo fuori Oh Ma è dolcissimo È carinissimo È un coniglietto Super colorato È super carino Bello Ok adesso questo mi serve Il 41 È da questa parte Ok Questo Aspetta Non si apre Basta Eccolo Il video finisce qui Oh si è aperto Miracle Guarda un po' che c'è Un'altra chiave Ma questa volta Rossa Rossa Anche la 42 È un cassetto E contiene di pantaloni Eccola 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 Ok Un'altra bustona Un altro adesivo E un altro lollo Ah è sempre lui City boy Anche te È bello tatuato Ma hai un 10 No è uno 01 Andiamo bene Un cuore spezzato Un sopracciglio tagliato Ah si Che bei capelli Sembri una pecorella Matosata 44 gatti File per 6 Con razza di 2 Ecco Lolina ci sta introducendo La bustina numero 44 Che non Viate Siccome non riesco ad aprirla Usare la magia Ok vediamo se ha funzionato Si ha funzionato Guarda Ma che cosa dice L'hai aperta con le forbici Zitta Lolina Ma Zitta 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 Ma dai Basta Guardate che carina È una mutandina Coi volan Con anche degli intarsi Un po' dorati Wow E da queste parti Lara ha trovato 45 e 46 Che contengono Una rivista Una rivista Cioè Cos'è Un magazine Pop up shop Come direbbe Alice Pop up shop Ed è un magazine Fatto di due pagi Cioè È un foglio Ma dai Un'altra bustina Fuffa Questa Questa è una bustina Fuffa Un foglietto Cioè Lo potevo Lo potevo fare Anche da sola Hai ragione Dai su E invece Lara Che ha trovato Orecchini dorati Sono passati Dal giornalino Da un foglio A ore diamanti Per tutti quanti Sono stata Un'ora A cercare il 47 Perché non lo trovavo Perché non lo leggevo Era talmente sbiadito 74 No non leggevo niente Secondo me questa scatolina Non aveva un numero Vai aprila Ok Eeeh Aia La fuffa continua Un altro adesivo Ok Questa è una scatola Per mettere un adesivino Io pensavo Eh lo so anch'io Che manca? 48? Ecco Eccolo Eccolo Non si apre Eccola Ah è una lol Diamo il benvenuto Alla bambola Che vince sempre Perché si chiama Prim Quindi arriva sempre Prim Lei forse si dovrebbe chiamare Prime Ma noi la chiameremo Prim Oppure Amazon Prime Esatta Lei lavora nella fabbrica di Amazon Eh ci devo svegliarmi Devo svegliere le cose Un'ora per cercare il 49 Che stava invece No Sotto al 48 Buongiorno Che hai trovato? Fa Ok Questi sono orecchini Nininini Nininini A forma di Unghia Di Mille piedi Mille piedi alle unghie? Non lo so Però se le avesse Le avrebbe così piccole Sono veramente piccoli Eccoli qua Io sono riuscita Finalmente a inquadrarli Sono bellissimi Ok Mi li metterei io Qua si ride Ma siamo arrivati A Lo scatolone Numero 50 Che contiene Dovrebbe esserci L'OMG Ma la sorpresa bellissima È che Sotto la scatola di carta C'è una Valigetta Valigetta Bellissima E forse abbiamo capito una cosa Ah La chiave Ecco a che serviva Ok noi ci siamo tenute Alla lontana Da qualsiasi recensione Per non spoilerarci E quindi stiamo Godendoci lo spettacolo Per la prima volta Insieme a voi La chiave inserita È difficile Se lo faccio Provo io? Vado io Vado qui Aspetta Non si apre Ecco 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Lo sto aprendo Lara non vede Ma io sì Uh che carina Che bella Dal vivo Sono sempre più belle Ma veramente Ma che bella Pure questa scatola Stupenda È fantastica Ha Un rossetto lucidissimo Anche gli occhi Sono stralucidi Guarda che bella No vabbè Bellissima Ok tiriamola fuori No continuiamo a scartare No E direi che ce n'è un'altra Perché la 51 Ha ancora una scatolone grosso Vai 50 C'è la 51 Questo l'abbiamo subito però E l'altra l'abbiamo aperta dopo Questa è la mia preferita Aiutatevi Questo è veramente Uno degli unboxing Complicati della storia Ecco Uh Vai Chiavina Uh 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 Oh ok Ok Sei aperta? Sì che si è aperta A me non sembra molto aperta Sì Sì Buttata qui Oh è l'aperta No vabbè Che bella Che capelli Questa l'apriamo subito però Dai apriamola Dai apriamola Sì adesso le possiamo aprire Ora che sono tutte e due Ma aspetta un attimo Che cosa c'è? Le altre scatoline? Sono finite Come 70? No Lullina Sono finite Sono 50 51 scatole Eh E 70 Lo sai come funziona Con le Lullina Magari l'adesivo È una sorpresa Le scarpe due Gli orecchini Esatto Gli orecchini E poi le OMG Hanno ancora delle bustine È vero Non ci avevo pensato Apri 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 Ok Da quale vuoi partire? Questa Ma guarda un po' Guardate qua c'è una cosa Che le reagisce in dritta Ma queste Sono veramente bellissime Questi armadi sono stupendi Vero Devevo metterle in tutte E poi sono anche comodi Per portarsene via Perché è proprio una valigetta Ok La nostra Ah è inchiodata Dobbiamo scatenarla Non potete capire Che cosa succede Ma ragazzi è successa Allora Una è sbagliata Ma non potete capire Siamo arrivati ad aprire l'oro Ma io Vi devo prima Confessare Una cosa Vero Abbiamo L'ha aperto Una lol Una lol Sbagliata Questa lol Femmina È uscita sbagliata Vero E non immaginereste mai Dove È uscita sbagliata Non so come dirvelo ragazzi Ma È corretta È il pisellino È il pisellino Cioè ragazzi Mi sa che siamo le prime al mondo Ad averla Penso Sì Probabilmente Siamo gli unici ad avere Lei Col pisellino Adesso mi potete vestire Che sono un fenomeno Eh No Però è una cosa un po' Cioè Non era Eh Ho il pisellino E quindi Vabbè per me non c'è problema Va bene così Anche per me Adesso coprimi Ok Eh ragazzi È successa questa cosa Ok Detto questo Andiamoci ad aprire le nostre meraviglie Pronti 3 Io di qua 2 1 Ta da Pum Lei casca ma io la riprendo al volo E abbiamo da vedere i loro accessori Ecco lolina Che tu dicevi Ah le bustine 50 sorprese Le sorprese continuano anche qui dentro Vedi che ci sono altre cose Abbiamo trovato Il completo Ma che bello Guarda che Ci sono questi pancaroni molto militari Lei invece ha un completino di tweed Stupendo E una gonnellina plissettata Mamma mia ragazzi Queste Veramente Questa è la mia preferita in assoluto Io mi sa che pendo per lei Perché veramente è stupenda La gonna è bellissima Il vestitino è raffinatissimo Fatto pure molto bene E queste calze sono pazzesche È tutta bella Lei è fantastica Non vedo l'ora di scollarle i capelli E allungargli un po' Ma Lei mi fa impazzire La vesto? Ok La vesto così Eccole qua Sono veramente molto diverse Tra loro Una è Downtown Una è Uptown Ma qui sarebbero Roma Nord E Roma Sud Vero Lei la chiamerei Chanel Perché guardala C'è un completino molto Chanel Vero Questi calzini Le calze a rete Gli orecchini di perla Lei è strascianella Veramente Lei Invece è molto discotecara Molto Da rave Da tecno rave Sono splendide Questo video finisce qui Perché è stata veramente Una cosa Guardate Ci volevano mille ore Tutte condensate In questi pochi minuti Abbiamo cercato di fare Quello che potevamo Per farlo velocissimo Ma vi facciamo vedere Tutti i cecci perilli E tutto il resto della famiglia Vestiti nei prossimi video E ricordate Lo scandalo Ragazzi Mettete un like a questo video Perché ce lo meritiamo Iscrivetevi al canale Perché è bellissimo Qui ci sono i pollini Ai nostri canali Qui qualcosa da vedere dopo E un bacio a tutti quanti Ciao Ciao